Buongiorno, buongiorno a tutti. Giuseppe Fava nasce il 15 settembre del 1925 a Palazzo Lacreide, una deliziosa cittadina barocca in provincia di Siracusa. I suoi genitori sono dei maestri elementari provenienti da una famiglia di contadini. Fava frequenta la scuola superiore a Siracusa e nel 1943 si iscrive alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania, dove si laurea nel 1947. A questo punto decide di concentrare le sue energie, il suo tempo, il suo impegno sulla sua vera grande passione, ovvero il giornalismo. Così inizia a collaborare con alcune piccole testate giornalistiche locali, fino a quando riesce a compiere un vero e proprio salto di qualità e comincia a lavorare in giornali di un certo spessore. Ad esempio la Sicilia, e soprattutto l'Espresso Sera, un quotidiano all'interno del quale Fava farà strada fino ad arrivare ad occuparsi della sua gestione editoriale ed operativa. Così, quando l'anziano direttore va in pensione, agli occhi di tutti, Fava appare il candidato naturale alla successione. E però le cose andranno diversamente. Fava comprende che è giunto il momento di cambiare aria e si trasferisce a Roma, dove collabora con il Corriere della Sera, conduce una trasmissione radiofonica per la Rai e gira numerose inchieste televisive trasmesse dalla Rai. Ora però, Fava non è solo un prestigioso intellettuale di respiro nazionale, ma è anche un vulcano di idee che esprime con una infinita energia creativa. Fava dipinge, firma opere teatrali, lavora per il teatro stabile di Catania, uno dei suoi allievi è Leo Gullotta, e scrive dei romanzi. Prima che vi uccidano, la passione di Michele e poi il mio preferito, Gente di rispetto, dal quale il regista Luigi Zampa trae l'omonimo film. Nel 1980, quando Fava ha 55 anni ed è ormai nel pieno della sua maturità professionale, arriva la telefonata fatale destinata a imprimere una svolta radicale decisiva nella sua vita. Una cordata politico-impeditoriale vuole offrirgli un incarico di grande rilievo, ovvero la guida di una nuova esperienza editoriale, il giornale del Sud. Si pensa proprio a Fava per due ragioni fondamentali. In primo luogo, per il suo grande talento intellettuale, e in secondo luogo, perché è uno dei pochi ad avere il coraggio, il fegato di costruire un giornale dal nulla. Fava accetta, ma solo dopo aver preteso e ottenuto precise garanzie riguardo al fatto che la sua sarà una voce libera, critica, indipendente. Così Fava si lancia nella mischia con quella foga e con quella passione civile che lo caratterizzano. Mette in piedi una redazione giovanissima, l'età media di 23 anni. Si tratta di ragazzi da lui scelti e da lui formati uno per uno, personalmente. Grazie a questa straordinaria esperienza giornalistica, molti di loro apprenderanno il mestiere e soprattutto una indimenticabile lezione di vita. Nel primo numero del giornale del Sud troviamo un editoriale denso e battagliero del direttore, intitolato Lo spirito di un giornale, nel quale Fava scolpisce la sua idea di giornale. Allora, così come esiste il giuramento di Ippocrate per i medici, allo stesso modo dovrebbe esistere il giuramento di Fava per i giornalisti. E questo articolo dovrebbe essere la bussola, il punto di riferimento ineludibile. Allora, vediamo qual è il nucleo essenziale di questo articolo di fondo. Secondo Fava, la finalità essenziale del giornalismo è quella di raccontare la verità. Ora, però, la verità non è quella che arriva con le sue gambe nelle redazioni giornalistiche, cioè i bilanci ufficiali delle società, i comunicati ufficiali, le conferenze stampa. Quello è il punto di vista del potere. La verità è qualcosa che va scovata, stanata. Perché? Perché la verità è nascosta, deformata, camuffata da mille interessi, dalla menzogna, dalla corruzione. Dunque, il compito primario del giornalista è quello di andare a caccia della verità, di riconoscerla e di offrirla ai lettori nella sua autenticità. Si tratta, quindi, di rendere visibile l'invisibile. Ora, il genere informativo che contraddistingue il giornale del Sud è la cronaca nera, nel senso che Fava vuole far emergere quello che si nasconde dietro questa inaudita ondata di violenza che si abbatte su Catania, flagellandola al ritmo di un morto ammazzato al giorno. Tuttavia, Fava non si inibita a dire si è trattato di un regolamento di conti fra clan rivali, ma fa nomi e cognomi, scava in profondità, vuole estrarre la verità dal pozzo più profondo. Ora, questo approccio incisivo, mordente, combattivo, mette seriamente a disagio la proprietà, la quale si rende conto ben presto di avere compiuto un singolare errore di prospettiva. Fava non è un direttore malleabile, manovrabile, con il quale è possibile mettersi d'accordo. Fava non scrive per plagare, per giustificare, per assolvere, ma al contrario, per agitare, per svelare, per condannare. E questa è la radice ultima che porterà a un contrasto insanabile fra l'editore e il direttore. Contrasto insanabile che spiega perché il giornale del Sud avrà una vita breve e travagliata. breve, nel senso che le sue pubblicazioni cesseranno dopo meno di un anno. Travagliata perché l'idea di giornale che ha la proprietà non coincide con l'idea di giornale che ha Fava. Per i proprietari il giornale deve essere uno strumento per accrescere la loro influenza sulla città. Viceversa, per il direttore Fava, il giornale deve essere uno strumento non per rafforzare il potere, ma per criticare il potere. Il giornale deve strappare le maschere, rivelare i veri volti e dunque rovinare lo spettacolo del potere. Nonostante i durissimi scontri, Fava non si piega e non si lascia addomesticare neanche da un preciso e inquietante segnale intimidatorio. Viene fatto esplodere davanti all'ingresso secondario del giornale una bomba carta. Si tratta di un vero e proprio attettato intimidatorio che danneggia la saracinesca e alcune auto in sosta. A questo punto appare evidente che l'unico modo per porre fine a questa pretesa scandalosa e intollerabile di affermare il diritto alla parola e alla verità è quella di chiudere il giornale, cosa che accade puntualmente nonostante la ribellione della redazione e l'occupazione del giornale da parte della stessa redazione. A questo punto Fava si trova di fronte a un bivio, può lasciar perdere, passare la mano, accettare il gratificante inserimento nell'ordine costituito, ad esempio tornando a Roma dove lo attende una carriera entusiasmante e ricca di soddisfazioni. Oppure l'altra strada, può rilanciare. Vi lascio immaginare cosa sceglie Fava.